Pace e gioia. Al 14 di Ginger Street c'era gente al primo piano. Abbiamo dovuto affomicarla. Felicitazioni tante. C'è un sergente con le convulsioni in White Park. Le loro signorie vogliono alzare le chiappe ora. Che paura boi ho avuto quando ho sentito che arrivava Brown. Credo signora che ora ella avrà potuto constatare di che natura siano i rapporti ufficiali che manteniamo. Il nostro Mecchi ha sempre qualche asso nella manica. E ma stasera ne abbiamo uno anche noi. Andate signora capitana. Comunico alla signora capitana che il rapporto si tiene ogni giovedì. Attimo. Giovedì. Riposo. Vedete che non viene? Dici? È matematico. Peccato. Peccato perché? Per quanto ne so io deve essere già all'estero. Questo si chiama filare. Un caffè. Caffè. Ma non eri oltre il confine? Sono forse il tipo che si priva delle sue più care abitudini per certe sciocchezze. E poi pioveva. Atto d'accusa contro il capitano. Mecchi messa. Ci sono anch'io. Sta tranquillo. L'intera ditta è tutto il personale. Siamo immortalati tutti in questo poema. Però... Beh, che ti prende? Cioè, quella volta che ne abbiamo fatti fuori solo tre, ce ne hanno segnati dieci. È un'ingiustizia. Allora ragazzi, sono le 5 e 25. Il tempo stringe. Quanto riuscite a tirar fuori dai vostri conti? Ora così, alle 5 del mattino. Ma dai, come si può? A quest'ora poi? 400 sterline. Ce la fate. E noi? Scusa tutto quello che c'è. Oh, ma impicano voi o me? Che meglio. Grazie a tutti.